Vai. È giovedì 4 ottobre, siamo nella sala consigliare della comunità di Valle del Primiero e da qui questa sera partirà il nostro progetto Ascolta si fa vita, 12 trasmissioni in ascolto del territorio, partiamo da questo lembo estremo del Trentino orientale per cominciare ad interrogarci sul tema della crisi delle relazioni e lo faremo con diversi ossi questa sera. Certo ci sarà il sindaco di Siror, Walter Taufer, poi Patrizia Bastasin, insegnante dell'istituto complessivo di Primiero, Stefania Lotto, psicologa territoriale dell'azienda sanitaria che opera in Primiero e Basugana, Giuseppe Giovannelli, uomo di sport, già presidente della Fisi e Don Gianpietro Simion, decano di Primiero. La puntata inizierà tra poco e saremo in contatto anche con diversi gruppi di ascolto in molti angoli del Trentino, il nostro tecnico Sergio Baldessari sta allestendo il collegamento web che avverrà attraverso la fibra ottica, questa è una caratteristica del Primiero, questo territorio così come buona parte del Trentino è ormai cablato ad alta velocità attraverso la fibra ottica, quindi beneficiamo di questa novità tecnologica. Vi auguriamo naturalmente buon ascolto, seguiteci anche nelle prossime puntate, fino a Natale Ascolta si fa vita.